Ready, aim, fire! Giorgio Si trova su questo server Che sta scrivendo adesso? San Francisco mi dai spada? Adesso facciamo un po' di cose carine Slash tp di can? Sto arreccando? Sto arreccando? Sì, altro link 2 Io sottolineerei Allora, dovrei averla teletrasportata E vedi, se ce la potete parlare Ok, va bene, vai sopra Qualcuno mi dice se la vedo? Che fai? Allora, Giorgio Sizio mi tipo è anche bella No, 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 c'è, c'è, c'è gabrifigo, gabrifigo Ecco, grazie Ti postamelo allontano Allora, Giorgio Come ti chiami su FB Perché io ce l'ho come amica su Facebook E io ce l'ho parlato Vediamo, eh, poi ci abbiamo parlato, ci abbiamo questo TS Quindi, come bo Allora, perché È un genio proprio, è un genio proprio Account Signori, stiamo facendo l'artrolli in due, sì, tra le malattie, però io non vedo, non vedo niente No, 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 ma tu a me, a me, tizio, mi vedi? Eh, non vedo nessuno in realtà Eccola qua Sizio mi tipo, io non vedo Tipo pure me, oppure Infatti, c'è qua che salta Allora, perché ruby account? Dovrebbe essere qua in mezzo, ma non me lo fa vedere, cavoli Ma la fai slash game maker, tizio, hai fatto slash game maker? No, ah, ok, la vedo, la vedo, slash game maker Ah, ok Aspetta, così Ma tu, ma tu, tizio, mi... Allora E' un fe... no, no, ma perché dimetti sta roba No, adesso non ti vedo, ma fa lo stesso Ma io voglio che mi veda Allora, perché ruby account? Perché ha rubato l'account questa Giorgia Fasulla, perché Giorgia è vera e se lo ho qua su TS Tizio siete... Tizio siete sulla montagna Sai che la vera Giorgia è su TS con me Adesso voglio vedere come risponde Sono vicino a T20 Sono vicino a T20 Sì... E' avuto un'idea magnifica Cosa vuol dire sono vicino a T20 No, sti, mi giro di nuovo, mi giro di nuovo Poveri idioti Allora, questo... eh, questo era trolling Lo sa Davvero? Dimmi IPTS Dimmi IPTS Se lo sa, tanto basta che va su Managebook e ci dice tutto No Mmm... Mmm... Buggiarda o bugiardo Bu... Bu... Tata be', la vera Giorgia se ne andata Perché dove' andare a mangiare? O era qua ancora? Sono scemo io No... Eh... Bu... 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 Allora... Bu... Rely... Account... Rubato Oppure ti mostri un gramo di botte Oppure... Ti denuncio legalmente perchè è rubare È vero, è vero, è vero Veramente Le... Gal... Mente Abbiamo Il... Il... Tuo... IP Intanto a prenderli IP Non si sa mai No, 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 già l'ho preso Oh, grazie Preoccupare subito E l'ho pure comparato Oppure... Me... Me... Son confronto Con quello la di Giorgia su TS Dimmi la verità Aspetta... E... Ti... Risparmio Perchè noi amiamo le persone sincere Vero ragazzi? Vero Scrivete nei commenti Ti risparmio Guarda che... Guarda che brutte queste persone che rubano gli account Una cosa brutta Quanto sono brava le persone che hanno idea di farsoprire queste persone Come... Come trollare la gente Io... Mi piace trollare la gente così Mi sa che questo lo metterò al posto dell'HG con l'iscritto Poiché l'iscritto non si è fatto vedere No... Peccato Dai ho fame Aspetta che giello vado Eh... È da l'incinpo È da l'incinpo E' da l'incinpo Faccio il tizio il Tizio e la cittodifico Ma... E' una cosa seria Si sono morto con un coglione Per dire lo tizio La vita e ti risparmio Se no Di inizio No... So chi perché una cosa seria No... No, la situazione Giorgia Ti... Mettono Il T P- l'unica il castiglio la stagione ma è scema non capisce la scema scemo sarà perchè mi sa che è anche un maschio non mi aspetta che vuole chiamare la io e me mi faccio dire è da un cerchio il cerchio c'è un sito su internet che non che ti dice tu me intendo l'ip di questo player non vai a te puoi vedere questa persona dove si trova giorgia dimmi la giunta l'arrivo perchè ieri rubato account ok dai allora divertiamoci un po' come nella scorsa cosa ora quelle che stanno spettando no che sta respirando che sta respirando allora mi sarò pozione di avvelenamento 33 secondi quando la ricorso pozione di rigenerazione no saluti spontanei dopo ok ok mi hai rubato l'account cosa più brutta è che giorgia pure donatrice eh eppure donatrice ha pagato per questo serve perché sento quello che si fa male eh sono io che sto distruggendo questo qua l'incertezza l'incertezza però quelli che stanno aspettando il restante della cg pensi che ci stiamo facendo la casa no l'incertezza e se ti penso a quello quando c'è a spazio anche io penso di solito quello che raccorda l'incertezza l'incertezza allora dimmi perché hai questo posso vedere come la stai torturando a solita maniera azioni istantanee avvelenamento netherrack eh sì netherrack blocchi di black che cavolo che l'è avete capito no no metti metti dell'acqua quando vedi che sta affogando puoi togliere non ho mandato per il salto giorgia e ma no non c'è bisogno che la metti da l'incertezza da in cima questo che la mette a due blocchi quindi ma che c'è una pozione il carino il nostro figlio il aiuto ai di preso quello dell'account il primo lavoro del sarco per me chiedi io il mio amico hai per il questo account ma cosa fa cosa saperlo la passata la legge di questo mentre giorgia la fa gioinare sul main crottonetto per me fa incazzare di più quello del seno perchè giorgia ha donato infatti ma di lì di cambiare passare le mie lecce è scritto login giorgia ma sei scemo ma che cosa vuol dire no perchè forse c'è messa come password giorgia e allora l'ha fatto se non aspetta vediamo chi c'è su ts ah ok questi sono tutti i nostri quindi quale è la password dell'account intanto nella registrazione meto barra nera o tolgo l'audio di video count di giorgia puttano o puttano perchè sarà un puttano quello di minecraft.net no no bene questa è la stessa cosa ma come si ma sei pirla ok signori siamo di fronte a un bimbo idiota qui ho uno di quelli brutti inizia come va la storia dei tuoi palleggi vaffanculo dai tuoi palleggi vaffanculo dai tuoi palleggi ma questa non l'ha ancora capito che non può fare la vostra della campagna di minecraft.net di giorgio scriviglielo e scrivelo tu non puoi scrivere anche tu no no mi spero io gli sparo le pozioni no e dimmi cosa devo scrivere quale se se questo qua sarà password dell'account di minecraft.net dimmi la password dimmi la password tuo account di minecraft.net di minecraft .net giorgia no di minecraft.net è difficile che sia bello non permette di notte quella dell'hg eh ma ecco ma è che quindi è un sp entrato con nome giorgia è indovinato la password guarda che la scritta prima mi sa la password che ho usato per entrare si e se vede ha scritto log ho scritto login giorgia quindi giorgia dovrebbe essere la password che scema giorgia metto una password del genere al massimo dopo prova te tizio no e se aspetta sei sp o hai comprato minecraft non dirà che sarà sp se il vostro ragionamento funziona ma secondo te che si città ma secondo te così scemo ma ti vergognati ma poi scritte secondo te così scemo da dirti che è sp inizio ma vedo che se p il login sarà quello punto per 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 perché il io voglio uscire non mi so stufato no teat il pietro la forma con la cliente in testa di merda vabbè signori l'altro all'indue con di questi testi di cane è finita la tt20 guita salamander e crowde e tutto mi ricordo comprate minecraft premium e niente e non usate account di altre persone quindi se dovete imprendere un server con capobastone insoprattutto nel server non mettete come password il vostro nome infatti non mettete come password il vostro nome e anche al mio canale anche al mio dai e anche al mio dai per l'inferno voi spammonia tutti e tutti e tutti sono pronti? 3 2 1 salamander devi fare il saluto divino 3 2 1 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti